Sbarca a Terni, prima tappa in Umbria, un secolo d'azzurro, la più grande esposizione d'Italia sulla storia delle nazionali di calcio e la collezione italiana più importante sulla nascita e lo sviluppo dei campionati mondiali ed europei. Dal materiale cartaceo ai documenti ufficiali fino alle magliette, dall'esordio a oggi, i palloni, gli scarponcini, tutti i gadget e memorabilia che hanno scritto la storia di questo magnifico sport. Un secolo d'azzurro curata dal dottor Mauro Grimaldi, consigliere delegato di Federcalcio Servizi, promossa dall'Associazione Sant'Anna di Aldorossi Merighi e Sabrina Trombetti e patrocinata da Anci, FGC e A di Cosp con oltre 500 cimeli originali dal 1870 al 2021, risulta essere la più grande rassegna storica e antologica sulla nazionale di calcio dall'origine nel 1898 ad oggi. Tante le novità esposte all'interno del Palasì, a cominciare dalle storiche camice bianche del 1910, dagli scarpini utilizzati dal campionissimo Giuseppe Meazza, da Roberto Baggio e Francesco Totti per finire con la maglietta indossata da Federico Bernardeschi nell'ultima partita contro l'Irlanda del Nord. Uno spazio speciale è stato dedicato ai primi giochi per bambini, subuteo, flipper, biliardino, di fine 800 e dei primi anni 20 e 30. Nel piano superiore è stata riservata una sala dove sono esposti i cimeli della Terranacalcio che ha finanziato economicamente l'allestimento della mostra. Sì, allora questa qui è un secolo d'azzurro che racconta la storia d'Italia e della nazionale. Partiamo dal 1850 per arrivare fino al successo a Wembley della Coppa Europea e all'interno della mostra ci sono, oltre alla Coppa Europa, c'è anche la Coppa del Mondo e c'è la Coppa Rimè. Tutte quanti cimeli originali, quindi maglie, tute, palloni, scarpini, guanti, giochi anche del periodo degli anni 50 e 60. Attraverso questa mostra itinerante raccontiamo l'entusiasmo e le emozioni che ci ha regalato la Nazionale della Nena di Calcio. Qui a Terni, e ringraziamo in particolar modo la Ternana Calcio e il Comune di Terni, perché oltre ai cimeli della Nazionale c'è anche una mostra dedicata alla Ternana Calcio. Doriana Musacchi, dal 2019 voleva portare la mostra a Terni sulla sala della Nazionale e finalmente ci siamo riusciti. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, grazie anche all'assessore. Era dal 2019 che avevo contatti con Roma proprio per portare questo evento a Terni. Anche perché credo che sia fondamentale spostare le persone, portarle in centro, anche per dare una mano ai commercianti. È un modo come un altro, visto i grandi eventi che abbiamo avuto a Terni della Fontana all'ultimo dell'anno, anche questo è un altro grande evento per la nostra città, per pubblicizzarla e far conoscere tutto il nostro territorio e quanto è bello, insomma, a Terni. Anche la Ternana Calcio, protagonista della mostra di Nervante sulla storia della Nazionale nel piano superiore del Palasì, Lorenzo Modestino ci ha accompagnato a vedere quali sono i cimeli storici della Ternana. Sì, ce ne sono ovviamente, soprattutto relativi alla Serie A, la prima e la seconda Serie A. Abbiamo portato due maglie, un'altra maglia degli anni Sessanta e poi diciamo qualche maglia storica, anche se più recente, tipo la maglia con cui la Ternana vinse il campionato nella stagione 97-98 con Luigi Del Neri e tornò in Serie B. Poi abbiamo le tre maglie ufficiali di questa stagione ed altre maglie che hanno un significato, una di Anthony Iannarilli dello scorso anno della partita in trasferta con la Juve Stabia ed un'altra di Aniello Salsano del famoso quello al 64esimo del derby di Supercoppa che poi la Ternana si aggiudicò. Abbiamo poi la Coppa e la medaglia, sempre della Serie A ed un altro trofeo relativo invece alla Serie B. Poi ci sono le due maglie storiche della Ternana, le due partecipazioni in Serie A di Pietro Biaggini e di Gianni Masiella. La mostra, un secolo d'azzurro, rimarrà a Terni fino al 21 gennaio e poi proseguirà il suo tour nel Lazio con un evento alle oasi di Cufra di Sabaudia.